In diretta dalla Camera dei Deputati a Roma, la Camera di Commercio di Cosenza, con il presidente Klaus Algeri, ha presentato il primo rapporto nazionale sull'imprenditoria sanitaria e il codice delle ASL. La sanità costituisce l'8,7% del PIL, più dell'11% sia in termini di prodotto interno lordo che di occupazione. Abbiamo visto uno studio sulla sanità, era stato fatto qualche anno fa, 6-7 anni fa. Non c'era uno studio specifico e quindi abbiamo fatto uno studio sulla sanità a livello nazionale. L'abbiamo dovuto fare da questa Camera di Commercio di Cosenza, quindi da sud che tanto si parla di questa sanità, e dare un input a capire non solo quali sono le regole, ma dove ci troviamo. Sono usciti in realtà dei dati molto importanti per noi. L'altro punto è che noi abbiamo notato è questa grande filiera. Vedete, come Camera di Commercio, anche come organizzazione, anche i ministeri, puntano molto a fare rete, rete d'impresa, con le start-up. Qua esiste la rete tra pubblico e privato, che si parlano da anni. È una rete con una filiera che va da un mondo dell'agricoltura, a un mondo dell'industria, a un mondo del commercio e dei servizi. Un settore strategico, dunque, rispetto al quale la Camera di Commercio di Cosenza ha ritenuto importante contribuire alla promozione della trasparenza e della legalità. All'incontro, in collegamento e in contemporanea con la Camera di Commercio di Cosenza e la Camera dei Deputati, anche il parlamentare calabrese Antonio Viscomi, insieme alla segretaria della Camera di Commercio di Cosenza, Erminia Giorno. Il codice che abbiamo qui sotto mano raccoglie una parte del materiale normativo chiamato il sistema sanitario. Se queste strutture sono ancora in grado di fronteggiare i bisogni di sanità che invece sembrano emergere in questa fase, non è soltanto l'epidemia, ma la capacità di integrare, come dire, in una visione di benessere collettivo il socio-sanitario e il sanitario, la questione del territorio rispetto agli ospedali, in Calabria, questo lo conosciamo bene, abbiamo 18 ospedali da chiudere e un grande bisogno di ricostruire un sistema sanitario territoriale. Forse per troppo tempo si è pensato che il primario, il reparto all'interno dell'ospedale fosse il cuore dell'azione strategica di risposta ai bisogni sanitari, ma anche dell'azione politica. In realtà così non è. Ad illustrare i dettagli più importanti del codice delle ASL è stato il procuratore Quirino Lorelli che ha ribadito la necessità di ricondurre ad unità il sistema sanitario nazionale. Consentitemi di, seppur brevemente, esprimere il mio sincero ringraziamento per la Camera di Commercio di Cosenza, in persona del Presidente e del Segretario, che hanno creduto in questo progetto di codice che viene fuori da più o meno due anni e mezzo di lavoro. L'inserimento nel codice che raggruppa essenzialmente le sole norme statali, cioè le norme che vengono dal centro e non le norme regionali, l'inserimento in questo blocco delle norme anti-Covid vorrebbe sostanzialmente cercare di rappresentare ulteriormente la possibilità, o se volete l'emergenza, di avere anche un nucleo, un nocciolo forte di norme che possano effettivamente trovare applicazione sull'interno territorio nazionale e non solo in occasione della pandemia, ma anche in un futuro in cui la sanità sarà sicuramente chiamata ad un percorso, ad un processo di razionalizzazione e di efficientamento che non sembra più oltremodo inviabile. La filiera sanitaria è un valore fondamentale per il nostro Paese, la componente pubblica e privata, ha prodotto lo scorso anno 140 miliardi di euro. Nell'ultimo anno, invece, il dato dell'occupazione nella sanità privata in Calabria è cresciuto del 2,5%. Le imprese sono aumentate del 45%. In questa particolare classifica, la Calabria occupa il secondo posto del podio nazionale per numero di imprese del settore sanitario privato, numeri snocciolati da Gaetano Fausto Esposito, direttore generale del Centro Studi delle Camere di Commercio Tagliacarne. Vorrei sottolineare un dato interessante, che l'occupazione è cresciuta, ma addirittura le imprese, nel periodo preso in considerazione, cioè nel 2011-2020, sono cresciute di più del 45%. Il che pone la Calabria sul podio, al secondo posto, come crescita regionale in Italia per numero di imprese del settore sanitario privato, il che dimostra che c'è stata una forte espansione. Certo, il valore aggiunto, come vedremo, è ancora abbastanza basso. Io ho usato una metafora, cioè siamo piccoli in Calabria, ma cresceremo, perché dal connubio tra economia e istituzione si fa lo sviluppo. In Calabria dunque numeri confortanti, anche se la popolazione sta invecchiando rapidamente e i LEA sono in peggioramento, stante questa situazione. Però c'è uno spazio interessante per l'imprenditoria sanitaria privata, che riceverà di conseguenza una domanda sempre crescente. In conclusione, possiamo affermare che nell'anno di maggior crisi nazionale dovuta agli effetti della sindemia da Covid, il sistema della salute italiana pubblico e privato e le sue interazioni con altri settori si sono dimostrati ancora una volta uno dei principali motori di sviluppo dell'economia del Paese e della sua messa in sicurezza. Grazie a tutti!